Minnie! Hey! Dove vai adesso? Ho dimenticato l'orologio in camera mia. Allora vengo con te e aiuta a caricarlo. Cos'è la giornata della marina oggi? Qui è sempre la giornata della marina. Andiamo Minnie. Ah, siete voi Minnie? Tu conosci me? No, vi ho sentito nominare. Oh! Ciao Robert! Ciao Minnie Lee. Oh, Robert! Non vogliono cambiare me questi soldi? Ah, già, Minnie Lee, ti presento Miss O'Neill. Vieni di sopra un attima a dare un'occhiata ai miei quadri. Ah, senti, non vogliono cambiare me questi soldi. Denaro dell'Irlanda del Nord. Vuoi che te lo faccia cambiare io alla mia banca? Oh, grazie, Robert. Molto onorata conoscevi. Molto lieta. Oh, Minnie Lee. Ciao, Robert. Scusate, ho qui il denaro per te. Oh, e quanto hanno dato? 63 dollari Hong Kong per ogni sterline. Ah, tu, tanta dentile! Figurati. Oh, Minnie, ti ho fatto male. Bella amica tu, Susie Wong. Ecco, tu hai fatto ridicare me con mia amica. Io ti ho fatto ridicare, vero?